Buongiorno di Antonia Pozzi, Salita. Questa tua mano sulla roccia fiorisce, non abbiamo paura del silenzio. Immenso grembo, la valle spegne l'ansia di lontane valanghe, fumo lieve sulle pareti nere. Si accendono le tue dita sulla pietra, alte afferrando orli di cielo bianco. Non abbiamo paura del deserto. Andiamo verso il Sorapis, così soli verso l'aperto altare di cristallo.